Per arrivare a questo sistema di arrotolarmelo così, ho impiegato anni, come puoi notare questo accordoncino e a un capo. Questa sedia l'ho imparata da solo a farla e ho impiegato moltissimo tempo ad impararla, da autodidatta, a forza di provare, provare, provare. Per fare questo tipo di impagliatura si usa l'erba palustre che può essere di diversi tipi. Questo per esempio è giunco, giunco triangolare. Il materiale va preso quando è maturo, in linea di massima in luglio-agosto. Comunque era molto diffuso nelle zone palustri. Quando eravamo all'istituto lo compravano da Capoterra. Poi questa sedia va imbottita da sotto. Se ne fa un pezzo all'inizio e quasi alla fine. Va imbottita per riempire i vuoti che ci sono sotto. E per far sì che i triangoli risultino convergenti. E quindi la sedia acquista più forza. Perché essendo imbottita i fili poggiano tutti in maniera uguale. Grazie. Grazie. Grazie.